ROBBEN! 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 Non ero accanto! Oh mio Dio! ROBBEN! BELLA VECCHI DRAVANI! Siamo tornati qui con un nuovo pack opening incredibile su questo sito che l'altra volta ci aveva fatto trovare tanti bei giocatorini e avevamo comunque... c'eravamo divertiti per tipo un'ora a spacchettà e siamo comunque andati sopra con il... con il nostro budget per chi non sapesse come funziona come funziona? Voi ricaricate i crediti qua dentro comprate i crediti come se dovesse comprare da un sito normale voi potete decidere o li scaricate direttamente sull'account come fate con ogni sito oppure aprite i pacchetti come abbiamo fatto noi sull'altro pack opening oppure potete anche fare delle scommesse sulle partite con i crediti di FIFA fate le scommesse tipo fatete andare sul betting per esempio Itali... Itali... Italia Italy Serie A ci sta ancora da Tsuyu perchè ovviamente sta già giocata e voi saprete già come è finita noi no però secondo me è finita X vero? pure più o meno vabbè comunque niente sarà famo tutta la Serie A allora per esempio questa sera che oggi è domenica ci sarà Cargar Milan però c'è un interessantissimo Sassuolo Sampdoria Sassuolo che non è da sottogare ma che giocare a questù? cioè perchè? giocheranno alle 18 cioè Inter e Milan contro Genova eh si cioè giocano in 22 contro 11 è il povero magari pure sarà riusciva a vincere la partita bene e vabbè comunque queste sono le quote e noi fanno una scommessa su Inter Genova perché tu sei interista si magari vincere Inter e ne vinceremmo se il Tanta se l'Inter ci fa il piacere di non vincere col Genova e noi la mandiamo e abbiamo piazzato questa scommessa andate su player redeem request e mettete tutte le cose del giocatore e ci avrete qua mettete tutto quanto e poi potete prendere i soldi esatto i crediti si mettetelo a 3 giorni perché vi conviene perché ci metto un massimo di 48 ore quindi si mettete subito a 3 giorni ma adesso andiamo a fare la cosa importante sono i pacchetti ci sono i pacchetti da 100k quindi io aprirei i pacchetti da 100k Certo PlayStation 4 100k pack direttamente ok male che bacio abbiamo quelli dell'Xbox si ok in questo momento non abbiamo più un soldi però contiamo di rifarli con questi pacchetti ecco di solito si trova sempre qualcosa di buono in questi pacchetti quindi attenzione attenzione si parte oh 2 if 1 del Leverton mamma mia un esmori quando mori ok si va un if speriamo che sia importante nigeriano è lui è Musa è Musa si però fa sempre schifo ok abbiamo già perso 100k dai è così dai vai oh eccolo è francese è lui è lui LDR Osvaldo bene 30.000 e non c'è nessuno però eccolo me lo sento quello è uno buono è uno forte è lui oddio che schifo dai oh mi voglio emozionare dai un altro pacchetto su dai oh 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 oddio pjanic è pjanic è pjanic è pjanic è pjanic è pjanic c'è abbiamo fatto 300k così con una botta siamo rifatti tutti i sordi si oppure ben a dia vabbè ma ben a dia con un bianca pjanic erics e 300k solo loro questo pacchetto è bello bello pro mi piace guarda guarda che sto a fa guarda spagnolo barcelona no dai l'unico spagnolo del barcelona che non poteva andare bene a loro va bene vabbè comunque allora il nostro balance adesso dopo aver aperto 6 pacchetti è di 568mila abbiamo perso il gantelli 30mila 608 stavamo quindi io direi a questo punto apriamo altri 5 se ci capitano 2 solo intanto un pacchetto come prima e un altro dove andiamo sopra andiamo sopra cioè non so se avete capito la cosa contora infatti è come rispetto a lui le cose non si capisce mai un cazzo da 100k perché noi siamo che schifo i poveri no? bravo 5 poi rimaniamo senza sordi però che schifo i poveri oh mio dio attenzione siamo eh eh oh però faillet boh 130 semana di sopra giu 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 oddio sono 3 allora uno brasiliano oddio quello di carrasco buono carrasco Iguain dai un altro po' a cuo su po' a cuo su tizioni oh è lui è camara che vale solo 13mila ahahah però vaffanculo non mi vuoi dare una carta viola ma no io quando ho visto lo stem ho detto alla ho ne ha presa per culo sì no ma più oltre io penso subito che era bameyang ma più oltre che è crew che è è una squadra però ho avuto un hero eh no grazie ah perché era tuo questo vabbè shallah il prossimo è tuo eh attenzione un if goalkeeper è lui è il grandissimo traf dai eh uno forse eh guarda 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 non c'è nessuno non c'è nessuno oh aspetta riberì oh mio dio 95mila salvato tutto lui olebbas olebbas hai motorato olebbas non ci ti rendi con olebbas porco tu olebbas leva sta merda vale compriamo altri 4 apriamo pure un altro insieme no perchè si banca attenzione giù eccolo eccolo è lui è grandissimo oh gulam gulam mamda bel pacchetto di me gulam mamda attenzione attenzione neanche un if però me lo sento pure sterling no è lui erunei 35 e 5 mangala ok attenzione polacco le vantotti oddio oddio scusami oddio godwin pure che stai 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 Che carico è, fra poco è quello che vale di più e non me ne ho accorto perchè è oro Oh ma un Riberi, no no, Riberi, Riberi, ma che cazzo stai a dire? Guarda quanto avevo fatto, un milione e cento Ma un milione e cento No, regà, però, regà, ho fatto troppi sordi Livandoschi, no, fermate No, ma guarda che gioco, cioè, Robin, io ancora, Robin non l'ho poco visto Perchè mi ero focussato su questa cosa qua Ma io basta che ti focussato su tutto il pacchetto Cioè, qui qua io ho letto il totale e ho detto No, io dopo Livandoschi ho letto subito il totale, non ho visto l'altri Ho letto un milione e cento Poi vedo Otamendi, Robben, Riberi, Godin Tagla scosta pure il 30 mila No, regà, io non voglio andare avanti, cioè, è troppo bello sto pacchetto C'era un Twitter, no? Cioè, regà, abbiamo un milione e tre Eramo partiti con 600 mila Cioè, regà, posso abbassare il cuore Un milione e trecento e cinquanta Cioè, quindi adesso noi Prima proprio del pack opening scorso Eramo partiti con un milione di crediti Esatto, ci siamo andati sopra Abbiamo scaricato centomila Abbiamo aperto tutti i pacchetti dell'altro pack opening Sì Abbiamo fatto questo pack opening e siamo sopra di 350 mila Oltre alle scommesse noi anche Ah, è vero Perché la scommessa, tra l'altro, non l'avranno Più che altro abbiamo un giocatore Quindi abbiamo un milione e quattro Vabbè, comunque, regà Questo pack opening è finito qui Perché è finito col botto Va bene? Cioè, non possiamo andare avanti Non possiamo andare avanti In queste connessioni In queste connessioni Il pathos Capito? Poi il pathos si rompe sempre No, vabbè, niente Se vi è piaciuto questo pack opening Lasciamo cinquimila like per un prossimo E in descrizione c'è il link per questo sito Se volete fateci un salto O un paccazzo E niente, da Granas è tutto Noi ci becchiamo al prossimo video Venga, ciao Ciao